Per loro è una ricorrenza brutta perché il primo di maggio riescono tutti i ricordi di otto anni fa, di quel giorno appunto che scomparsa Guerrina Piscaia e da quel giorno non si è avuto più notizie. Guerrina Piscaia oggi avrebbe 57 anni ma è scomparsa nel Lula il primo maggio 2014 da Caraffello. Per la giustizia italiana ad assassinarla sarebbe stato il vice parroco della piccolo paese, padre Gratiena Labì, condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione ma a distanza di otto anni del corpo ancora nessuna traccia. Avere la possibilità di poter ritrovare il corpo e di conseguenza poterlo sotterrare darebbe a loro la possibilità appunto di ricordarla e anche di porre fine a questa storia perché il fatto che comunque sia il corpo non si trovi è una ferita sempre aperta. Gratiena Labì attualmente sta scontando la pena nel carcere romano di Re Bibbia. Ha rinunciato a ricorrere alla Corte Europea di Giustizia ed avviare una richiesta di revisione del processo ma il suo silenzio è sempre rimasto totale. Fin dal primo giorno che la procura lo ha individuato come responsabile dell'omicidio di Guerrina Piscaia noi gli chiediamo di dirci dove si trova Guerrina Piscaia. Gli avvocati della famiglia di Guerrina Piscaia stanno infine mettendo appunto l'atto di citazione per una difficile azione civile contro la Chiesa ritenendola in qualche modo responsabile delle condotte di un suo pastore e quindi tenuta a risarcire. Teniamo che dal punto di vista civilistico c'è una responsabilità civile perché appunto chi è che doveva controllare, vigilare sull'operato di Alabi e degli altri soggetti era la diocesi. Non è una questione di soldi, è una questione di principio.